Grazie a tutti. 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 Salvatore Lipari, appena arrivato, sullo sfondo abbiamo Cardeto, il paese che ci ha ospitato. Allora, sempre presente, sempre a onorare gli amici e organizzatori? Sì, sì, siamo sempre presenti, scusate che mi levo il casco così forse con lo meglio. Sì, sì, sempre presente, con gli amici e soprattutto la prima cosa è importante rispettare gli amici e i luoghi, dare il lustro a questi piccoli paesini di montagna che ne hanno proprio bisogno. Secondo, tra i piloti ci incontriamo e cerchiamo di fare il nostro meglio per vincere, assolutamente, ci passa una bella domenica in tranquillità. Questa è una cosa buona. Salom, classe S3, presidente, lo aiuti a salire sul primo fratino, è vecchietto, è vecchietto, è vecchietto. Oh, Salvatore, non parlare. Va bene, signor sindaco. Viva Oppido. Facciamo un giovellaggio, Oppido Cardero allora.